Bentornato al nostro osteopata di fiducia, bentornato Gabriele Benedetti, bentornata la nostra bellissima Barbara, anche lei la nostra supermodella, perché oggi noi parliamo di un argomento che ci sta molto a cuore, perché l'osteopatia molto spesso viene considerata e presa per curate, le cure per quanto riguarda i dolori articolari, abbiamo parlato prima di sciatica, di mal di schiena, e tante volte il mal di schiena può essere causato da problemi intestinali, uno non ci parla mai, e questo l'osteopatia ci può venire in aiuto grazie a questa osteopatia viscerale. Di che cosa si tratta dottor Gabriele? Allora, tu hai parlato di osteopatia articolare e viscerale, vediamo qual è il collegamento che collega quindi una struttura come il colon, che voi vedete qui, quindi l'intestino, in questo caso crasso, e poi abbiamo i nervi. Dalle lombari e dalle ultime torace, quindi a questo livello, vedete queste strutture bianche, queste qui gialle che vedete che escono, bianche sono le vertebre, mentre gialle sono i nervi, e noi siamo abituati a pensare che i nervi vadano a innervare le braccia e le gambe, quindi i muscoli, mentre invece c'è un collegamento proprio con il viscere, cioè dalle lombari nascono i nervi che vanno a raggiungere il nostro colon di cui parlavamo. Per cui che cosa succede? Siccome il nervo è il passaggio di un'informazione, e può anche trasmettere un'informazione dolorosa, se noi abbiamo un dolore al colon può trasmettersi quindi alla colonna, e di conseguenza una lombalgia può trasmettersi al colon. Per cui il mal di schiena può essere magari ovviamente la causa della nostra colite, oppure viceversa, la colite può essere la causa del nostro mal di schiena. Allora, iniziamo subito a capire come si fa una visita per capire se il nostro mal di schiena è dovuto ad una colite che noi non stiamo curando. Ok, partiamo come sempre dall'anamnesi, quindi la storia del paziente, la sua clinica, poi abbiamo esami come la colonoscopia e la risonanza magnetica che possono essere molto utili, e poi vediamo proprio dei veri e propri trucchetti che utilizzo ad esempio durante una visita. Perché? Parliamo di trucchetti perché qui andiamo a dividere il nostro paziente in dei quadrati. Immaginiamo che lo dividiamo in dei cassoni, che sono apposta al nostro test, dove il primo cassone è fatto dalla testa, poi abbiamo il secondo quadrato che è fatto appunto dal busto e poi dagli altri ulteriori. Immaginiamo adesso che due cassoni di questi possano essere contigui e quindi comporre una postura che si dice posteriore. Le esageriamo leggermente di meno, eccola qui. Una postura posteriore di solito fa pensare che ci sia un dolore, ad esempio lombare, e quindi possa essere necessario uno sblocco, che noi facciamo come trattamento, a livello delle vertebre lombari. Poi invece, mettiamo due cassoni anteriori, quindi il test è busto in anteriorità. Vedete come si aumenta l'ipercifosi e questa per esempio farebbe pensare a una postura con una problematica viscerale. Perché viscerale? Perché spesso Monica, se tu hai il dolore alla pancia, quindi se hai una colite, che cosa succede? Tu non ti vai ad allontanare dal dolore, cerchi di assecondarlo. Quindi vedete come il colon possa addirittura influenzare la postura. E quindi se arriva un paziente che ovviamente tende a stare più in avanti, già penso che possa esserci qualcosa di viscerale. Più posteriore, qualcosa invece ti dice di strutturale, quindi legato ad esempio alle vertebre lombari. Allora, vediamo subito che tipo di trattamento ci farai vedere, Gabriele, oggi. Allora, partiamo dal trattamento, in questo caso, del viscere. Quindi partiamo dal colon. Il colon che ha una sua porzione, si dice ascendente, poi trasversa, discendente, poi abbiamo il sigmoideo, per raggiungere poi infine il retto. Quindi abbiamo un percorso che si dice è orario, va bene? Quindi lo vedete visualizzato perché passa qui sull'ombelico e immaginiamo di avere proprio questo quadrato che poi scende. La cosa importante da fare, anche come test, è quella di palpare il colon. Quindi sentiamo se ci sono delle tensioni, sentiamo se abbiamo sotto le mani la sensazione di qualcosa di più denso. E una volta individuato, si fa una tecnica di recoil, ovvero una tecnica che va a mettere in tensione il viscere. Ok, rilassati, inspira, perfetto. Fuori l'aria, inspira, fuori l'aria, inspira. E rilasciamo. Che cosa succede? Con questa tecnica noi diamo un forte impulso al viscere. In questo caso, quindi, è come se tu immagini un serpentello che sta lì tranquillo a dormire, noi gli diamo fastidio e lui reagisce muovendosi. Che cos'è questo movimento? È la stimolazione della peristalsi dell'organo, quindi il suo movimento all'interno della sua cavità. Un organo ha sempre bisogno di muoversi, perché non è che fluttua, è attaccato attraverso dei legamenti ad altri organi. Però ha bisogno di muoversi perché questo stimola la sua circolazione. Quindi è importante che il sangue circoli in modo che non ci sia ristagno e ci sia poi il nutrimento e sangue che quindi raggiunga il viscere. Questa è una tecnica molto semplice, non è particolarmente dolorosa. È normale che con un colono infiammato un pochino si sente il fastidio, però è immediata e rilascia immediato. E questo è un primo trattamento? Primo trattamento molto semplice. Questo per quanto riguarda il viscere. Vediamola invece uno per la lombare, quindi proprio strutturale, quindi parsiamo alla colonna. Perché la colite può portare, appunto, come ho detto prima, anche a questo mal di schiena. Per cui bisogna sbloccare anche la schiena. Sì, immaginiamo proprio che arrivi questa informazione di dolore qua dietro. Quindi l'infiammazione si sposta con un semplice collegamento nervoso alla parte posteriore. Stendi completamente le gambe. E sai, quando parliamo di compressione nervosa, quindi di dolore, se Barbara metti la mano così, esatto, stendi la mano così, questo è il disco intervertebrale, ne parlavamo prima con il professore, abbiamo visto che c'è una compressione del disco. E allora che cosa succede? Se noi abbiamo due vertebre che vanno a comprimere in questa maniera, il disco da qualche parte va, poi riesce indietro, può creare una protusione, va a toccare i nervi. La cosa fondamentale da fare è allontanarsi dai nervi. Che cosa facciamo? Andiamo a sbloccare e decomprimere il disco. Lo facciamo immediatamente. In silenzio, vero? Dobbiamo stare? In silenzio, vedi che sono molto concentrato perché la tecnica è molto precisa. Una bella ispirazione, fuori l'aria e lascia cadere le gambe. Eh, santo cielo. Ok, faccio insomma. Però, allora, trova giovamento il paziente, non vi spaventate, anzi. Lo dico un po'. Allora. Incredulo, ma Barbara ride, per cui non ci dobbiamo credere. È una tecnica visivamente forte. Eh, certo. E in realtà non c'è forza, perché io non ci metto forza. C'è una questione di tecnica dove faccio scivolare semplicemente i piani articolari. E poi fa bene, adesso volerà la nostra Barbara. Sulle punte andrà. Io lo so. Allora, ormai Barbara, insomma, ci seguo da un po' di tempo, è sempre sopravvissuta. Ormai, sì, ormai. Per ora rischi sembrano esserci. È una tua paziente. Esatto. E questo, ovviamente, è uno sblocco talmente forte che ti rende proprio l'idea di come si vada, no? A liberare la compressione. Poi abbiamo... Sì, no, perché c'è pochissimo tempo a nostra esposizione, caro Gabriele. Io vorrei far vedere anche degli esercizi, no? Perché anche gli esercizi si possono fare. Allora, facciamo vedere. Soltanto un esercizio che è quello più importante, perché io avrei parlato rapidamente dell'opsoas. È un muscolo molto importante che collega chi? Tutta la colonna lombare all'arte inferiore. Un muscolo che spesso, se ci sono queste problematiche, va in vetrazione. Quindi può dare l'epsoidi, infiammazione del muscolo psoas. Io lo tratto allungandolo. In questo caso lo vediamolo a casa. Ecco. Ci posizioniamo tranquillamente... Sul tappetino. Sul tappetino, con calma. Ok. Lo facciamo, vedete, con un appoggio, perché è normale che questo può essere fatto a tutte le età. È normale che siamo un po' avanti con l'età. Cerchiamo di fare con un appoggio, così abbiamo anche la possibilità di ritornare dopo in piedi con calma. E l'obiettivo qual è? Cercare di andare a allungare questa parte. Ah, uno stretching praticamente. Quindi è semplicemente uno stretching. Siamo così per due minuti cercando di allungare sempre il più possibile la parte. E questo piano piano andrà a rilassare il collegamento che noi abbiamo proprio tra l'ombare e l'anca. Per quanto tempo dobbiamo stare così? Lo facciamo per due minuti. Per due minuti. Anche a casa non lo possiamo fare? Lo possiamo fare anche a casa, questo lo consiglio sempre, lo possiamo fare la mattina per sgranchirci un pochino, ma soprattutto la sera, perché la sera siamo più caldi, c'è più circolazione sanguigna, e quindi possiamo sfibrare meglio il muscolo fisiologicamente e creare l'allungamento proprio dell'allungamento muscolare e dello stretching. Grazie al dottor Gabriele Benedetti. Grazie alla nostra bellissima Barbara Torraco.